Carli, ma hai tradito? Vieni qua vicino a me, lui c'è il mio portafortuna, vieni qua. Carlotta buonasera, è perché noi non facciamo del cinema ma facciamo delle dirette, direttissime, sei alla ricerca di quattro giovani che raccontino il cinema in un tuo docufilm e domattina so che cominci i provini. Domattina ci sono i provini al globo dalle 10 di mattina e cerchiamo questi quattro ragazzi urgentissimi che dovranno interpretare questi famosi personaggi del cinema. E gireremo qui a Pistoia, a Piazza Duomo. So che si sono già candidati in tanti anche da tutta Italia e verranno per questo casting domani, domani che è 10 gennaio. Però non è ancora deciso nulla, quindi... No, no, assolutamente, ancora non abbiamo scelto nessuno, speriamo di vedere le facce che cerchiamo. Sì, 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 si sono proposte anche tante donne, tante bambine, però noi vogliamo quattro ragazzi dai 20 ai 30 anni. Perché il mondo del cinema attira, insomma. Attira sì, sempre. Però in questo momento abbiamo bisogno proprio di questi quattro ragazzi. Senti, sei a Pistoia, vieni da Roma per questo casting e poi successivamente ci dirai anche le date in cui farei le riprese. Ti sei portata un'amica però, un'amica però insomma anche una collega. Collega, amica, figlia di anche lei. Ce la vuoi presentare? Lei è Margherita Spoletini. Margherita, buonasera, benvenuta a Pistoia. Grazie, benissimo. Hai già fatto una passeggiata per Pistoia e so che comunque hai un occhio critico per quelle che saranno le riprese di questo docufilm. Sì, diciamo, come ho detto per rotta, cerchiamo questi personaggi e dobbiamo trovare appunto queste persone che corrispondono a delle caratteristiche particolari. Quindi stiamo portando un po' e comunque complimenti a Pistoia perché è veramente una bellissima città. Non l'avevo mai vista, quindi è veramente bella. Benissimo. Io vi lascio perché so che dovete fare tutta una serie di riempimenti e niente, ci vediamo domani al globo per vedere questi futuri giovani attori. Speriamo, vi prego, fatevi vivi, perché senza di voi non ci diamo a Pistoia. Quindi fatevi vivi. Perfetto. E faremo il possibile. Io sfortunatamente per qualche mese non rientro nel target perché sono... Ma per poco, eh? Sì, perché compio 18 anni il prossimo giugno. E' nostro troppo piccolo. Mi dispiace, troppo piccoli non li vogliamo, non. Benissimo. Ricordiamo, quattro ragazzi, 18-30 anni. Bene, a domani o domenica. Grazie, sì, vi aspettiamo. Ciao. 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 Noccia di cani hanno detto... Ciao, io sono.